Musica Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a nord-est. Marius Lussian Aprian, di 49 anni, pizzaiolo originario della Romania, residente a Budoia, è stato condannato con rito abbreviato a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Alessandro Coltro, di 48 anni, di Sacile. Il delitto avvenne il 24 settembre del 2018 in un boschetto nei pressi del centro commerciale di Fontana Fredda, Pordenone. Il GUP del Tribunale di Pordenone non ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione come avrebbe voluto la Procura, che aveva anche chiesto l'ergastolo. Rischia una condanna pesante il 35enne triestino accusato di aver violentato un undicenne in una cantina delle case Ater di Piazzale De Gasperi. Ma l'uomo è sotto processo anche per aver tentato un approccio sessuale con una minorenne, domandandole con insistenza lo scambio di foto intime via WhatsApp. Nell'udienza di ieri, il Tribunale, il PM Federico Frezza, il magistrato che aveva indagato su entrambi i casi, ha chiesto per il 35enne una pena di 11 anni di carcere, diminuiti a 7 anni e 5 mesi, visto che il processo si celebra con il rito abbreviato. Il gruppo Luigi Dainotti ha rinviato per le repliche delle parti al 23 marzo. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in mare nel pomeriggio di ieri, nelle acque davanti a Porto Piccolo a Trieste. Il cadavere è stato avvistato poco prima delle 17 sul posto. Si sono subito portati i vigili del fuoco con i nucleo sommozzatori e la polizia per gli accertamenti del caso e l'avvio delle procedure che dovranno portare alla identificazione della donna. In serata la Prefettura di Trieste, in una nota, parla di primi rilievi dai quali si deduce che il corpo appare probabilmente riconducibile alla donna 55enne udinese, Marina Buttazzoni, scomparsa da casa quasi un mese fa. Nell'ambito delle ricerche in corso, dopo l'attivazione del piano provinciale seguito alla segnalazione della scomparsa, i vigili del fuoco avevano concentrato la loro attenzione nelle acque davanti a Duino. Schianto ieri sera a Monfalcone, in via Boito, lungo la strada regionale 14. Sono rimasti coinvolti una vettura e uno scooter che percorrevano la corsia di marcia in direzione Trieste. L'impatto, la cui dinamica e causa sono al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto, si è verificato all'altezza dei magazzini Delta. Uno scontro piuttosto violento, almeno stando ai danni subiti da entrambi i mezzi. Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire lo scooterista all'ospedale. Per quanto apparso, le condizioni del ferito non dovrebbero essere gravi. Sul luogo dell'incidente stradale sono giunti anche i vigili del fuoco di Muffalcone. Ed ora la linea passa alla redazione di Treviso. Medici di base, boom di pensionamenti, 60.000 trevigiani resteranno scoperti. Benazzi dice quest'anno 44 condotti lasceranno per tamponare, già assunti tre specializzanti per Treviso e Oderzo. Da Roncade a Caponord, in Panda per cambiare vita, Jacopo molla tutto. La sfida di ai 40 sotto zero di un trentenne partito il 7 gennaio per arrivare alla meta il 24. Ha detto, ho seguito il cuore, proverò a restare in Norvegia facendo la guida. Treviso l'Uso 2 contro i bulli da tastiera. Dicono che di fama online verrà denunciato. Querelati due pazienti per aver insultato i medici sui social. Benazzi ha detto che è una deriva inquietante. Così fermiamo le fake news. Ultraleggero precipitato a Cairano, medico verso la soluzione. Stefano Semenzin, 64enne, medico dello sport, aveva firmato le carte che abilitavano al volo. Mario Ceccato, settantenne di Bederoba, l'uomo che era alla cloche dell'aereo in cui è morto anche Iuri Bortoli, un 47enne di Montebelluna. Cento multe al semaforo in tre mesi. Il T-Red diventa un caso, quindi il dispositivo in funzione dallo scorso ottobre all'incrocio del ristorante Barbesina a Castelfranco sta già suscitando numerose polemiche. I cittadini vogliono un conto alla rovescia. Rossario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Rendere più semplice e trasparente il mercato degli appalti, creando economia di spesa a vantaggio di nuovi servizi per i cittadini, diventando anche uno strumento con il quale favorire l'attività delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Sono questi solo alcuni degli obiettivi della nuova centrale unica di committenza, il CUC, che l'assessore regionale ai sistemi informativi ha illustrato alle amministrazioni locali presenti a Pavia di Udine durante un incontro svoltosi in municipio. Come è stato spiegato nel corso della riunione, la CUC non si occupa solo di gare, ma sviluppa anche una funzione di supporto nei confronti dei comuni in tutte le fasi del processo di acquisizione di un bene o di un servizio. Lo strumento, inoltre, non deve essere visto dagli enti locali come un elemento coercitivo, quanto invece come un'opportunità concreta per ridurre la spesa e utilizzare le somme risparmiate al fine di ottimizzare i servizi rivolti ai cittadini. Nell'illustrazione, inoltre, è stato messo in risalto il fatto che la centrale unica di committenza dovrà rappresentare nel tempo anche un'opportunità per ridare ossigeno al sistema delle piccole e medie imprese, consentendo a questo importante comparto dell'economia regionale di partecipare singolarmente o in forma associata agli appalti per quei servizi che sono previsti tra le competenze della CUC. Infine, la regione è intenzionata a sviluppare questo strumento affinché possa diventare d'uso comune anche per le attività delle gare delle regioni dei paesi con termini. Attualmente, in Friuli, Venezia e Giulia, le stazioni appaltanti che fanno parte della piattaforma appalti sono 329, le utenze accreditate 3.790, mentre le ditte iscritte 11.401. È già a pieno ritmo la preparazione dell'edizione 2020 del Salone Nautico Venezia, in programma dal 3 al 7 giugno prossimi, che si annuncia più ricco di importanti espositori ed eventi. Aumenterà la superficie espositiva sia in acqua sia a terra. Dopo la prima edizione, il Salone dell'Arsenale si conferma un appuntamento cui i grandi cantieri vogliono partecipare sia per il valore della città e la capacità di ospitare eventi internazionali, sia per il mercato orientale, che dimostra grande interesse. La volontà è quella di avere nell'estate 2020 più barche a vela e di battere le tematiche ambientali con il focus su motori ibridi e innovativi. Il Salone Veneziano punta insomma a diventare una full floating experience. La chiusura delle iscrizioni il 29 febbraio. Il Comune ha dato poco deliberato a favore di lavori di ristrutturazione di due zone dell'Arsenale che aumenteranno quindi gli spazi espositivi con l'edificio N116 e con i lavori alla banchina detta la nuovissima. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Anche sul Friuli Venezia Giulia aumento della nuvolosità con vento da sud-ovest moderato in quota. Dalla tarda a serata e nella notte probabili piogge in genere deboli, qualche debole nevicate in montagna oltre gli 800 metri circa. Per la giornata di domani, di notte prima mattina, residui e precipitazioni, poi rapido miglioramento con cielo sereno in giornata. venti moderati da nord-ovest, specie in quota. Nelle ore notturne è possibile qualche foschia o banco di nebbia in pianura. Passiamo al Veneto. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso coperto. Domani, di notte, cielo da molto nuvoloso coperto nelle prime ore a sereno poco nuvoloso entro l'alba con formazione di varie nebbie sulla pianura dopo la diminuzione della nuvolosità. In seguito sereno, poco nuvoloso, con nebbia in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione sulla pianura di sera. Previsioni e cura di ARPA FWG Meteo e ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.